Il ministro della difesa Crosetta ha detto ho paura per la mia incolumità. Purtroppo il pericolo di una violenza c'è oggettivamente nell'evoluzione della situazione. Quanto pensano che i lavoratori possano accettare salari che calano da 30 anni, contratti che non vengono rinnovati, attacco a reddito di cittadinanza, disoccupazione, aumento delle bollette. La violenza sta lì, poi se la violenza colpirà Crosetto non mi strapperò i capelli. Grazie a tutti.